Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, novità della patch 9.30 in-game, guardate che cavolo è successo! È stata abbattuta una delle due fabbriche a sponde del saccheggio, ragazzi! C'è un'impronta assurda, visibile in una maniera incredibile! Guardate ragazzi, guardate che roba! Nuova, modifica, morfologica alla mappa! Un'impronta enorme, esattamente uguale a quelle che abbiamo visto nella scorsa patch del picco polare, si è presentata proprio da pochi minuti! Questo vuol dire ragazzi, che molto probabilmente la bestia si è mossa di nuovo e ha completamente abbattuto la fabbrica di sponde! Una roba davvero incredibile che meritava di essere vista e ragazzi, ovviamente, se ci saranno altre novità, io ve lo dirò! Vi ricordo anche che ci sono dei file audio in-game, ve li pubblico su Instagram, relativi al mostro che va a distruggere anche i cavi elettrici e quindi molto probabilmente la nuova neo-inclinata sarà molto presto al buio! Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ricordo che il resto è in live, visto che stiamo registrando in live! E noi ci vediamo in live! Bella! Ciao! Ciao!